Buonasera a tutti e grazie per essere tutti qui. Io vorrei iniziare facendo un minuto di silenzio per la bambina Nicollo e proprio adesso ci sono i generali. Grazie. Come dicevo grazie a tutti, oggi siamo qui insieme ai genitori della nostra Piccirida, la nostra Patrizia. Patrizia un mese oggi tragicamente ci ha lasciati e ha lasciato dentro di noi un ricordo bellissimo. Tutti vogliamo bene Patrizia e nessuno mai la potrà dimenticare. Noi, Associazione Amici Via Navarra, abbiamo pensato di portare avanti questa iniziativa per poter donare alla città di Termini Merese un altelene ricordo e memoria di Patrizia. Tutto questo grazie a tutti i donatori che hanno permesso tutto ciò. Abbiamo riqualificato insieme ai volontari dell'Associazione, parenti di Patrizia e genitori di Patrizia questa bellissima Iola. è stata riqualificata, è riconsegnata, tra un poco la riconsegniamo alla città di Termini Merese e tutti i bambini di Termini Merese. L'altelena è spensieratezza, i bambini giocheranno qui, urleranno, giocheranno. Giocheranno appunto nel ricordo della nostra Patrizia per non dimenticarla ogni giorno. È dura, lo sappiamo, il Signore ci deve dare tanta forza, soprattutto i genitori e tutti i parenti. Patrizia vive nei cuori di ognuno di noi e noi con un grande applauso ci mandiamo un bacio dicendo Patrizia ti vogliamo bene, resterai sempre nei nostri cuori e vi ringrazio tutti, tutti i donatori, tutti i volontari e tutti voi che stasera siete qui con noi. Patrizia ti vogliamo bene, un bacio. Adesso i genitori e i donatori e inaugureremo la palena in memoria di Patrizia. La frase che ti diciamo è L'amore è come un'altelena, se trovi chi ti sa spingere arriva a toccare il cielo. Per non dimenticare ogni giorno Patrizia Rio. Grazie. 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 grazie 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 io ancora una volta vorrei ringraziare a tutti i donatori che hanno aiutato appunto l'associazione con la raccolta fondi grazie sono tra il pubblico grazie veramente di cuore a tutti i volontari e il presidente Vincenzo Farina che sempre ci spalleggia grazie grazie